Un cane per amico per una quarantina di bambini con disturbo dello spettro autistico delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei sette istituti comprensivi cittadini di Bustorsizio. L'iniziativa, che intende contribuire allo sviluppo delle capacità di autonomia, gestione del sé e dell'altro attraverso la presa in cura di animali, è sviluppata in particolare da Carolina Onlus e fa parte del progetto Outa Out, che ha preso il via nelle scuole grazie alla rete di realtà di cui l'amministrazione comunale capofila, che ha portato a casa un finanziamento regionale di oltre 263 mila euro per l'inclusione di questi alunni speciali.